ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi mostrerò dove trovare la runa nel livello sale di alto blocco in minecraft dungeon naturalmente dovete prima finire il gioco ovviamente una volta fatto questo quando ripetete questo livello dopo aver superato tutta la prima parte nel castello una volta che siete usciti fuori praticamente al punto in cui dovete recuperare la chiave d'oro andate qui e interagite con questa leva attendete pochi secondi e come per magia si aprirà questo passaggio secreto dove al suo interno ovviamente troverete la nona runa quindi assicuratevi di completare il gioco ripetete il livello seguite questa procedura e la runa sarà vostra